Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su questa piccola serie dedicata a una guida per Medieval Dynasty, per chi vuole cominciare a giocare a questo gioco. Allora, nella puntata di oggi vi parlo dell'edificio che abbiamo di fronte a noi, cioè il Fienile. Allora, il Fienile è uno degli edifici a tratti più complicato, ma anche il più utile che questo gioco ci mette a disposizione, perché ci permette di rendere automatica la gestione dei campi, quindi di assumere dei contadini che al posto nostro si occuperanno fisicamente di coltivare i campi, fertilizzarli, zapparli e raccogliere chiaramente anche i frutti della terra, di quello che raccoglieremo. Ora vi spiego bene. Partiamo dalla base. Allora, appena cominciate il gioco, avrete la possibilità di costruire, di creare dei campi coltivabili. In che modo? Allora così, con la Q, andando su edifici, andando su agricoltura e poi su campo, voi avete la possibilità di generare dei campi coltivabili. Vi faccio vedere per esempio qui, ok? No, forse qui è un po' storto. Facciamo qua, facciamo questo punto qua. Vi dà un punto di origine, dopodiché potete allargare il campo come più ritenete opportuno e fare il campo grande come vi pare, ok? Normalmente, diciamo così, in assenza di lavoratori che lo fanno al posto vostro, voi dovrete impugnare una zappa, aspettate che la trovo, ecco, e manualmente andare a zappare tutto il campo, ok? Una volta zappato, il campo diventa effettivamente un campo vero e proprio. Dopo averlo zappato dovrete fertilizzarlo, dovrete impugnare una borsa, borsa semplice per esempio, che si fa in questo modo, quindi con tre di pelle dovrete impugnare una borsa semplice, ne prendo una così vi faccio vedere come funziona. Ecco qui, allora ho preso una borsa così vi faccio vedere esattamente come funziona. Io la borsa l'ho messa nel mio inventario al numero 7, quindi mi basta premere il numero 7, ok? Così me la fa impugnare. Vedete che ce l'ho in mano? Allora, cliccando col destro davanti al campo, voi potete scegliere se fertilizzarlo o seminarlo. Chiaramente appena zappato il campo può solo essere fertilizzato, per cui clic sopra, lui ci sparge sopra il fertilizzante, ok? Su tutto il campo. Dopodiché va zappato, quindi di nuovo, passare tutto il campo a zappare di nuovo, in modo che il fertilizzante appunto entri, insomma si mescoli con la terra. Dopodiché va seminato, quindi di nuovo impugniamo la nostra borsina e utilizziamo il seme che va bene per questa stagione. In questo caso dovrei usare i semi di cavolo perché in questa stagione, cioè in estate, si può seminare soltanto il cavolo. Ma non ce l'ho perché ho venduto i semi, quindi, anzi però, in realtà se io lo raccolgo per esempio, ecco, ho raccolto anche dei semi. Quindi adesso mi permetterà di farlo. Ok, quindi campo, gli dico che voglio i semi di cavolo, ok? E quindi io così semino il mio campo, ok? Dopodiché bisognerà aspettare che i campi siano pronti, d'accordo? Quindi ogni semi, vi vedete qua, ogni seme ha la propria stagione nel quale essere piantato. Cosa succede quando avete dei campi grandi come questo? Che fare di tutta mano non è possibile. Insomma, la moglie di lavoro è talmente tanta che avremo bisogno per forza di lavoratori. Come vedete, i contadini sono gli unici lavoratori che effettivamente eseguono un lavoro. A differenza degli altri, per i quali vi ho spiegato nei video precedenti, nei quali il lavoratore, anche se visivamente non sta lavorando, in realtà il gioco sta producendo quello che gli avete detto di produrre, i contadini sono gli unici che devono essere effettivamente sul campo, in tutti gli effetti, a eseguire il lavoro. Quindi sono gli unici per i quali serve effettivamente che abitino anche vicino al finile, per esempio. Perché se loro abitassero dall'altra parte del villaggio, nel momento in cui inizia la giornata lavorativa, devono effettivamente recarsi su il campo per eseguire il proprio lavoro. E smetteranno chiaramente alla fine della giornata lavorativa, che se non sbaglio è intorno alle 6. Potrei ricordare male, ma no. I lavoratori interni al finile invece funzionano come gli altri. Quindi visivamente li vedrete fare cose, cose un po' a caso, e semplicemente il gioco vi fa vedere che stanno lavorando, ma in realtà la dinamica dei lavoratori interni al finile funziona come gli altri. Quindi la produzione comincia effettivamente nel minuto stesso in cui comincia la giornata lavorativa, e termina nel minuto esatto in cui finisce la giornata lavorativa, ok? Le movimenti che vanno all'interno sono puramente decorativi. Come vedete, quando si hanno tanti contadini, ognuno fa il suo. Loro continueranno a lavorare finché ci sarà qualcosa da fare e finché la stagione lo permetterà, chiaramente. Ma come si gestiscono i contadini? Vediamolo. Allora, torniamo sempre nella schermata gestione. Questa è la schermata in cui andrete di più durante tutto il gioco. Nel finile, vediamo, io in questo momento ho il finile di livello 2, poi vi dico le differenze tra i vari finili. Vedrete che gli strumenti di cui avranno bisogno i vostri lavoratori sono la zappa, la borsa e il falcetto. Loro utilizzano la durevolezza, quindi in base agli strumenti che gli daremo da utilizzare, li andranno a consumare finché gli servono. Quindi in assenza di uno di questi oggetti smetteranno di lavorare. Potrete decidere di assegnare il lavoro di contadino oppure di addetto al finile, a chi appunto lavora all'interno del finile. Io in questo momento ho 6 lavoratori, vedete? 2 sono addetti al finile, volevo rimettere in ordine di professione ma non si può, quindi 2 sono addetti al finile e gli altri 4 sono addetti, sono proprio contadini, ognuno con la propria abilità, quindi a seconda di che ho cominciato prima, per esempio questi 2 hanno un'abilità 9, mentre gli altri hanno un'abilità più scarsa, ma chiaramente aumenta nel tempo. I contadini si occupano effettivamente di lavorare sui campi, quindi sono quelli che vedete fare effettivamente il lavoro manuale. Ecco, gli addetti al finile invece sono quelli che stanno all'interno del finile e di cosa si occupano? Si occupano di generare quello che gli diremo in questa schermata, quindi mangime l'animale utilizzando grano di avena, grano di segale o paglia, oppure trasformare il grano di segale, anzi trasformare la segale in grano di segale, perché nel momento in cui vanno a raccogliere la segale piuttosto che il grano, il grano di avena, raccolgono il fusto intero, la pianta intera, poi questa pianta deve essere lavorata, se dovete farlo manualmente si fa in questa aia appunto, vedete crea, e voi potete creare il grano, il grano di avena, il grano di segale oppure il lino, e quindi trasforma semplicemente le piante raccolte nei semi, ok? Su questo tavolo invece potete creare il mangime animale, l'intonaco che è un isolamento appunto per gli edifici in legno, in tronchi, il fertilizzante derivante dal concime e il fertilizzante derivante dal marciume, il marciume si fa lasciando marcire il cibo, il concime invece lo creano gli animali ovviamente, quindi sono due tipologie di origini diverse, ma alla fine sempre il fertilizzante viene fuori, e poi potete fare qui anche i semi di papavoro, quindi il stesso discorso di prima, però il papavoro si fa in questa postazione, invece qui, faccio liberare la postazione, in questa zona invece, in questa area di lavoro, si crea la farina, quindi farina da segale, farina di grano oppure farina di avena, ok? La farina ovviamente è un ingrediente per creare le ricette e quant'altro. Nel fortepo qua è tornato un albero, vabbè, l'avevo tagliato del tempo fa, ma si è rigenerato in questo momento, vabbè. Invece tornando alla spiegazione riguardante proprio il fienile come struttura, ci sono tre livelli diversi di fienile. Allora, andiamo in tecnologia che ve lo mostro. Ok. Il fienile di livello 1 si sblocca con 10 punti agricoltura, quindi semplicemente avendo il vostro campo e andando a coltivarlo, si accumuleranno i punti di tecnologia agricola, e quindi una volta che avete raggiunto i 10 punti, si sbloccherà il fienile di livello 1, che sarà fatto di rametti con il tetto in paglia, e avrà un magazzino di 250 kg. Il magazzino è qua. Ok. È questo qua. Adesso io sono a 500. Sono a 500 perché il mio fienile è di livello 2. Infatti il fienile di livello 2 si sblocca a 1500 punti agricoltura. Tra l'altro non spaventatevi riguardo questo. I punti agricoltura non li fate soltanto quando è il personaggio che comandate voi a lavorare, ma si accumulano anche con i contadini, quindi il lavoro dei contadini vi genererà i punti agricoltura, quindi non dovrete fare tutto il lavoro voi per guadagnare punti, ma loro che stanno lavorando per me in questo istante, mi stanno generando dei punti agricoltura. Ok. Quindi il livello 2 del fienile è fatto in tronchi, il tetto in paglia, e un magazzino di 500 kg. Il livello 3 sarà fatto in pietra, con il tetto in assi, e terrà invece un magazzino di 1000 kg. Poi il magazzino, devo dire la verità, è oggettivamente poco indispensabile. Perché? Perché tutto il materiale che viene generato dai contadini, ovvero tutto quello che i contadini in questo momento stanno raccogliendo, sta andando in dispensa o finisce nel magazzino. Perché quando loro raccolgono le coltivazioni, si genererà sia il frutto di quello che la pianta ha generato, sia i semi della stessa pianta. Ovviamente per ogni raccolto vengono generati più semi alla volta, quindi i semi vanno direttamente in magazzino, mentre la pianta va direttamente in dispensa. Di conseguenza, il magazzino interno al fienile serve fino a che non avrete il magazzino generale. Da quel momento in poi, il magazzino all'interno del fienile praticamente non lo userete più. Poi, chiaramente i contadini non si occuperanno soltanto dei campi, ma si occuperanno anche dei frutteti. I frutteti, o meglio, si occuperanno sia dei campi che dei frutteti che saranno di competenza del fienile. E come si fa a sapere se è di competenza? Semplicemente non devono essere troppo lontani. Non so esattamente quale sia la distanza limite entro il quale il fienile ritiene di sua competenza qualcosa, però vi faccio vedere per esempio, questa è la mia partita di serie. Vedete che io in questo momento ho otto frutteti. Tre di questi sono segnati in rosso e sono i frutteti che sono là in fondo, vedete dove c'è il pallino bianco, di fianco alla casa del mio personaggio. Quindi là in fondo è sicuramente fuori portata, invece questi qua sono molto vicini. In base a che cosa i contadini decidono su quale campo lavorare? Loro cominceranno sempre dal campo più vicino al fienile. Vedete che nel momento in cui è cominciata la giornata lavorativa hanno lavorato subito questo campo, hanno raccolto, hanno zappato, hanno fertilizzato e il campo praticamente è pronto per la prossima semina. Dopodiché si sono occupati di questo campo, vedete che qualcuno ha raccolto, adesso lei sta mettendo il fertilizzante, e c'è subito Albert dietro che zappa. Dopodiché vanno, adesso si stanno occupando dei cavoli. Stessa cosa, c'è qualcuno che raccoglie, dietro c'è quella libra che fertilizza, e dopodiché arriverà qualcun altro. Ok? Quindi prima di tutto lavoreranno su questi campi vicini, e poi pian piano lavoreranno su quelli più distanti. Poi vi do le ultime indicazioni riguardanti alla gestione, quindi la schermata che vi ho fatto vedere poco fa, che è la terza icona dell'elenco gestione appunto. Come vedete, qui appaiono tutti i campi che io ho costruito, ok? Con dei numerini di fianco. Cosa vogliono dire? Molto facile. Allora, per esempio, il campo 1 è il campolino. Io ho 64 spazi appunto coltivabili, e lui mi sta dicendo in questo momento che il campo di lino, il numero 1, ha 64 spazi, di cui 64 già seminati. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. In questo caso non solo è seminato, ma è anche pronto alla raccolta. Infatti se io andassi qua con una falce, potrei raccogliere direttamente il lino. Mentre il secondo campo di lino che ho, che è il numero 13, perché lui li numera in base a quando li avete creati praticamente, e mi dice che ci sono 64 spazi dedicati al lino, ma per il momento nessuno di questi è seminato. Questa è una schermata molto utile per tenere sotto controllo lo stato di semina dei vostri campi, per avere anche un'idea di quali semi poter vendere, per esempio, perché se io ho in magazzino 100 semi, e voglio sapere se questi semi serviranno oppure no, io vado in questa schermata e dico ok, ho 100 semi, 64 non mi servono perché il campo è già seminato, altri 64 invece mi serviranno perché dovrò avere la scorta di semi da utilizzare quando sarà la stagione giusta. Quindi non ne venderò 100, ne venderò 36, che sono i semi di cui avrò possibilità di vendere, insomma che saranno i semi che non mi serviranno per la semina. Poi cos'altro posso dirvi di questa schermata? Vedete che ho dato dei nomi ai campi, perché? Perché per rendere, diciamo così, la lettura un pochino più facile. Il gioco in realtà ci dice già che cosa è coltivato su questo campo, perché in alto qua ci sono tutte le icone delle coltivazioni che abbiamo disponibili, quindi qua abbiamo il grano, mi pare, sì, qui abbiamo il grano di segale, questa invece è la vena, però come colpo d'occhio è un po' complicato da leggere, ecco. Quindi per facilitare un po' la lettura di questa schermata ho deciso di applicarci dei nomi. Come si fa? Con la lettera H, vedete, H nome personalizzato. Posso farlo anche con i frutteti, per esempio, in questo caso è un frutteto di pere, per cui mi posiziono sopra, clicco sulla H e mi dice che nome vuoi dargli, e in questo caso lo chiamiamo pere, ok? Quindi sappiamo che questo è un frutteto di pere, questo invece è, boh, forse prugne? Va bene, facciamo che così, e lo chiamiamo prugne, ok? In questo caso voi potete appunto dare un ordine e avere un colpo d'occhio un pochino più immediato su quello che è la coltivazione attuale. Approfondiamo un po' questa schermata, questa parte forse un pochino più complicata, seguitemi bene. Allora, come faccio a dire ai contadini in automatico cosa fare con questi campi ogni volta? Si può. Per esempio, andiamo sul campo di segale, ok? Doppio clic, vi si apre questa schermata. In questa schermata voi potete vedere, in base al colore, in che stato è il vostro campo. Questo sempre perché il gioco ci permette di dare un'occhiata alla nostra situazione, da qualsiasi parte siamo nella mappa, quindi se io fossi dall'altra parte della mappa e volessi sapere se i miei contadini stanno facendo il lavoro che devono fare, a che punto sono con la lavorazione, io con questa schermata posso vedere ogni singolo campo in che situazione è, a che punto è la lavorazione. In questo caso mi dice che il campo è arato, ok? E quindi è pronto per la semina. Ve ne faccio vedere un altro. Per esempio, guardiamo il campo di cavolo che è quello che stavano lavorando prima i miei contadini. Vedete che qui ci sono appunto le quattro fasi di lavorazione. C'è la parte arata, la parte fertilizzata, la parte non fertilizzata e la parte ancora di prodotto pronto per essere raccolto. Nel caso in cui ci fosse invece un campo con le piante cresciute ma non ancora pronte per il raccolto sarebbe di colore verde. Troviamone uno. Ecco, le barbabietole per esempio si raccolgono in autunno, mi pare. Adesso siamo in estate e non sono ancora pronte, quindi il campo in questo caso è tutto verde perché le piante sono in fase di crescita ma non sono pronte per il raccolto. Ora, sono in questa schermata qui. Vado su un'altra dove non c'è il raccolto pronto ma solo per... anzi, anzi, anzi. Vado sull'ultimo campo che ho creato così non scombussolo troppo il lavoro dei ragazzi. Così non scombussolo troppo la lavorazione in corso. Allora, in questa schermata io posso decidere che tipo di lavorazione dovranno fare che tipo di semina che tipo di coltivazione sarà dedicata per questo campo. In questo caso c'è il cavolo perché l'ho seminato io ma nel caso in cui io non volessi il cavolo su questo campo devo andare su questa concina qua ok? Fare elimina ok? E vi si apre questa schermata. In questa fase voi potete decidere quale pianta andrà seminata su questo campo. Mettiamo il caso che io volessi la cipolla ok? Doppio clic e andando a cliccare e trascinare vedete? In questo modo i miei contadini sapranno che in quel campo dovranno zappare, fertilizzare e seminare le cipolle ok? E lo faranno ovviamente nella stagione giusta perché ogni pianta ha la propria stagione adatta. Intanto qui faccio accetta e va bene. Ogni pianta ha chiaramente la propria stagione adatta. La cipolla per esempio che adesso abbiamo qua una la raccolgo io così mi genera un po' di semi e ve li posso far vedere. Li trovo nel mio inventario ok? I semi di cipolla si devono seminare durante la primavera. Quindi loro cosa faranno? Andranno a seminare il campo di cipolla nella stagione corretta quindi in questo caso nella primavera. Se invece fosse l'estate per esempio e la stagione giusta per i cavoli è l'estate allora in estate i contadini si occuperanno di seminare i cavoli così come in autunno si occuperanno di seminare le coltivazioni che vanno seminate in autunno. Insomma diventerà tutto quanto automatico. Poi cosa succede se io volessi modificare la destinazione di questo campo e se magari volessi dedicare in un campo soltanto due coltivazioni? Si può fare? Certo che si può fare. Io torno nel mio campo 15 vado sempre in questa schermata in questa situazione ho selezionato elimina quindi io cliccandoci sopra così vado ad eliminare quello che è stata la mia selezione però posso fare anche un'altra cosa posso andare direttamente qua scelgo la pianta che voglio sostituire e posso direttamente trascinarla qui oppure di nuovo voglio un campo con la doppia coltivazione allora qua ci voglio il papavero vado sopra e modifico la selezione molto facile nel momento in cui ho deciso e sono sicura della coltivazione che ci voglio applicare io posso semplicemente dire con l'h arresta modifica campo e lui memorizza le impostazioni che gli abbiamo dato da adesso in poi poi facendo ESC ci chiede se il campo è stato modificato se vogliamo mantenere il cambiamento e noi gli diciamo di sì e voi tornate alla schermata principale da questo momento in poi saranno i contadini a gestire in autonomia i vostri campi ultimo dettaglio allora ultima informazione ultimo consiglio dato che come dicevamo prima i contadini sono gli unici lavoratori ad eseguire esattamente il lavoro che state vedendo quindi ad utilizzare effettivamente il tempo che avete stabilito per la vostra stagione dovrete stare attenti ovviamente a non sovraccaricarli di lavoro perché se voi avete tanti campi ma pochi contadini non faranno in tempo magari a lavorare tutto durante la stagione in corso quindi quando impostate il lavoro magari per le prime stagioni dategli un occhio controllate che riescano effettivamente a fare tutto il lavoro nei tempi che vi servono se non fanno in tempo niente paura riprenderanno il lavoro alla stagione successiva oppure aggiungete chiaramente dei contadini per dargli una mano poi mi stavo dimenticando di darvi un'informazione per quanto riguarda i fenili allora il fenile di tipo 1 avrà 4 lavoratori più un apprendista il fenile di livello 2 avrà 6 lavoratori più l'apprendista il fenile di livello 3 avrà 8 lavoratori più l'apprendista quindi nel caso in cui abbiate necessità di più contadini a lavorare non sarà necessario per forza costruire altri altri fenili almeno non subito poi magari con l'andare del tempo con l'ingrandirsi del villaggio potrebbe essere invece che che abbiate la necessità di costruire altri fenili ma per le prime fasi di gioco non sarà necessario vi basterà ampliare quello attuale per aumentare il numero di contadini e appunto rendere e avere più lavoratori infine anche il fenile come tutti gli altri edifici migliorabili si possono migliorare direttamente sulla stessa struttura quindi nel momento in cui avete costruito i fenili di livello 1 e volete trasformarlo e potete trasformarlo nel finale di livello 2 non è necessario costruirlo distrugge quello precedente e costruirne uno nuovo ma potete costruirlo sopra bene ragazzi come vedete i miei contadini se ne stanno andando perché sono le perché sono le 18.09 quindi la loro giornata lavorativa è finita e come vedete piano piano tornano alle loro case e alla loro attività di relax naturalmente vi ricordo di mettere a disposizione a loro gli strumenti per lavorare e anche il fertilizzante ovviamente altrimenti non potranno fertilizzare i campi e basta va bene ragazzi per questa puntata mi fermo qua spero di aver spiegato bene tutto e di essere stata chiara perché il fenile è effettivamente abbastanza complicato da spiegare e da utilizzare nel caso in cui non vi fosse chiaro qualcosa e magari voleste approfondimenti naturalmente scrivetemi che vi rispondo volentieri intanto vi ringrazio per aver visto anche questo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video baci